E' stata aggiornata al 6 settembre prossimo l'udienza che ha visto imputati 12 persone accusate di aver fatto il saluto romano e il grido presente il 10 luglio del 2022 a Schio durante la commemorazione dell'Eccidio del 1945. Una cerimonia che si svolge annualmente in ricordo dei 47 detenuti che furono fucilati dai partigiani perché accusati di far parte del partito fascista e di legami con la Repubblica di Salò. Secondo la Procura si era trattato di manifestazioni usuali del disciolto partito fascista come avvenuto a Roma nei giorni scorsi. La PM Serena Chimici aveva contestato la violazione dell'articolo 5 della legge Scelba. Gli avvocati della difesa in contrasto su questa impostazione puntavano all'ossoluzione per insussistenza del reato. L'udienza è stata inviata in attesa della sentenza delle sezioni unite. In Tribunale a Vicenza questa mattina anche un gruppetto di sostenitori degli imputati. Non siamo venuti per la sentenza, siamo venuti a ribadire più che diritto la nostra volontà di fare i saluti romani dove e come e quando vogliamo. Qua fuori dal Tribunale, nelle sedi opportune o alle commemorazioni per i morti. Ripeto, non ci interessa la sentenza né di assoluzione né di condanna. Siamo fatti così.